La guarda dei sessi è un argomento complicato, è affascinante naturalmente, nonostante sia anche un po' preoccupante e chi come me si è sempre occupato di antichità inevitabilmente da che parte comincia? Comincia pensando all'antichità greca, in particolare i soliti greci e al primo caso di fronte al quale ci mettono i greci di guerra fra i sessi, cioè paradigmatica addirittura, la figura delle amazzoni. Le amazzoni naturalmente lo sappiamo tutti, sono figure mitiche, ma non importa, il mito è qualcosa che ha sempre qualcosa di dirci sulla realtà, non perché rispecchi la realtà, può anche essere rappresentare esattamente l'opposto della realtà, ci sono tante possibilità e tante varianti, ma insomma comunque è sempre molto importante anche in questo caso. In questo caso che cosa ci racconta? Ci racconta di alcune donne che appunto, diciamo, si potrebbe dire di mestiere quasi, fanno la guerra agli uomini, nel senso che non solo fanno la guerra agli uomini, combattono, sono delle combattenti straordinarie e combattono e uccidono regolarmente gli uomini, cioè vincono e quando le hanno vinti che cosa fanno? Li uccidono, quindi diciamo che è una guerra un po' particolare. Li uccidono oppure se ne servono, secondo varie altre versioni di questa leggenda, per riprodursi e poi che cosa fanno? Dei figli maschili accecano secondo alcuni, secondo altri non si sa, comunque come si riprodurcono, si dice accoppiandosi prima di ucciderli con gli uomini che hanno vinto, poi capite siamo di fronte una leggenda. Una leggenda, come dicevo però, molto significativa questa volta proprio per opposizione. Ci fa vedere esattamente quello che non deve essere una donna. Queste sono donne, insomma, quelle che negli uomini, quelle che negli uomini sono delle qualità, la combattività, l'eroismo, il coraggio, la forza fisica. È questo che fa un eroe, no? Pensiamo a me, ora basta pensare a quello. Ebbene, in una donna, cosa fai di una donna? Il simbolo dell'orrore, tutto quello che una donna non deve essere. Quindi, già questo è molto significativo e molto interessante, perché vedete, da qui nasce poi questa idea che le donne sono naturalmente, metterei le virgolette, naturalmente diverse dagli uomini e la diversità in che cosa consiste? Proprio in questo, una delle caratteristiche che non sono combattive. Le donne amano naturalmente, va bene, non voglio parlare di quella che è la funzione delle donne, la riproduzione fondamentalmente della fisica del corpo cittadino, ma le donne amano i bambini, amano tutto quello che sono naturalmente portate a tutto quello che oggi definiremmo la cura e tutte quelle che sono contrarie sono naturalmente innaturali. Non ho il tempo per dirvi che questa teoria del fatto che la diversità naturale fra i sessi è nata in Grecia e soprattutto che il più grande responsabile di questa idea sbagliata, secondo me quantomeno, è Aristotele. Bene, e adesso partiamo da questo. Partiamo dalle amazzoni e poi ecco, quello che vorrei cercare di dimostrare nel corso di questa mia conversazione, è che ci sono moltissimi esempi di donne combattenti nell'antichità. La traccia fondamentalmente, naturalmente, i due storici sono Erodoto e Tucidide, dai quali fondamentalmente si traggono queste notizie, ma non sono solo, perché ci sono donne guerriere, donne combattenti, donne che vincono gli uomini, donne straordinariamente, e capaci anche, un'altra cosa, di governare, di governare degli stati, delle città. Ecco, quindi partendo dalle amazzoni io cerco di arrivo addirittura, dopo il mondo greco, a un personaggio incredibile che è Zenobia. Zenobia, la regina di Palmira, purtroppo di Palmira oggi, a Palmira pensiamo con grande dolore in questo periodo per quello che è successo. Beh, Zenobia è una donna che ha combattuto contro l'impero romano ed è l'unica persona, non dico detto donna, l'unica persona che ha veramente rischiato di, cioè rischiato, ha cercato in un certo modo e non ci ha riuscito di dividere l'impero romano in due. Questo sinteticamente, come ho più potuto, quello che cercherò di dire. Grazie a tutti.